Ciao, siamo Ruzmanai, Bujumannu dai Trento Ruz, una regga band di Sassari. Siamo appena entrati nel circuito Sardex, siamo felicissimi di appartenere a questa grandissima famiglia e siamo pronti a dare il nostro contributo per sviluppare questo bellissimo progetto. Abbiamo deciso di entrare dentro il circuito Sardex perché l'abbiamo visto crescere, nascere, sposiamo a pieno la loro causa e quindi siamo anche stra-convinti di poter dare tanto all'interno del circuito. Essendo una band molto attiva, non solo in Sardegna ma anche in Italia e in Europa, abbiamo un casino di spese e quindi abbiamo pensato che all'interno del circuito potremo coprire alcune di queste spese, tipo sul merchandising, tanto altro, viaggi, ospedalità, noleggi auto e queste cose. Abbiamo deciso di entrare nel circuito perché pensiamo di poter essere abbastanza d'aiuto o comunque di poter proporre tantissime belle cose per un circuito che è sempre in continua crescita. Ovviamente ci mettiamo dentro i nostri spettacoli, sia ridotti che interi, completamente in Sardegna, ma anche ospitate perché no, magari vi possiamo creare anche dei jingle, degli spot pubblicitari per la vostra azienda o per la vostra attività. Possiamo, essendo un'associazione, anche partecipare insieme a voi a creare degli eventi e delle iniziative. Possiamo fare anche delle produzioni insieme a voi musicali o anche fare dei corsi di strumento. Siamo orgogliosissimi di essere dentro, come prima band. E appunto perché siamo la prima band ad entrare nel circuito, siamo molto entusiasti di questa cosa anche perché possiamo creare realmente dei ponti con tantissime nuove aziende che stanno crescendo e che sono entrate prima di noi all'interno di Sardex. Siamo molto felici di essere entrati nel circuito perché è un motivo in più per la Sardegna stessa di crescita e di sviluppo. Noi poi come band rappresentiamo, ci sentiamo rappresentanti della Sardegna in tutta l'Europa dove andiamo in qualsiasi posto, dove andiamo a suonare, ci teniamo a precisare che siamo sardi proprio perché è una terra che ci appartiene, è casa nostra e siamo felici di poter fare qualcosa nel nostro piccolo perché la Sardegna stessa cresca e la vita sia il migliore per tutti quanti.